La top che vado a fare quest'oggi è molto molto importante per me perché come sapete ovviamente io sono un grande fan di Osamutezuka, è il mio autore preferito in assoluto, non solo per quanto riguarda i manga ma per me è proprio il migliore artista di sempre, quello che ho sempre trovato come un faro nella nebbia per quanto riguarda proprio l'arte in generale e quindi sicuramente al contempo oltre a essere molto molto bello fare questa top per me è stato anche difficile perché ci sono tantissime sue opere che amo davvero alla follia, ma indubbiamente ce ne sono 10 che spiccano sulle altre e oggi andremo a vedere proprio quelle Naturalmente benvenuti o bentornati su questo canale, per chi non mi conoscesse io sono Kirio, faccio più che altro recensioni su manga, anime e cultura giapponese, ogni tanto sul wrestling e se vi piace quello che faccio vi invito a scrivervi al canale attivando le notifiche Se ti piace l'avventura dovresti proprio scaricare gratuitamente il gioco Sunrise Village In questo gioco free to play potrai esplorare liberamente un villaggio, parlare con i suoi abitanti, cercare i tanti misteri da risolvere e anche gestire una fattoria Cosa aspetti quindi? Clicca il link qui sotto in descrizione per scaricare il gioco in modo totalmente gratuito Partiamo subito quindi dalla decima posizione, dove troviamo un'opera non molto conosciuta del maestro Tezuka Ma che secondo me è davvero molto molto valida È un'opera in quattro volumi chiamata Shumari, pubblicata in Giappone nel 1978 Ed è un'opera storica, che ci parla un pochino di quello che è uno dei popoli più affascinanti che possiamo approfondire Ovvero quello degli Ainu, che sono i giapponesi autoctoni praticamente, coloro che c'erano nelle terre giapponesi prima che esse fossero a tutti gli effetti definite Giappone Il protagonista dell'opera, Shumari, è uno di quei samurai che terminata l'epoca delle guerre e delle battaglie giapponesi Si è trovato un po' così, diciamo, spaesato perché appunto, come tanti altri, l'unica cosa che conosceva era la spada E quindi in qualche modo si è dovuto arrabattare, adattare a quella che era la vita successivamente a questo periodo di stati combattenti Che c'è stato veramente per tanto tanto tempo in Giappone come in altre parti del mondo Ma in particolare nell'arcipelago giapponese davvero c'è stato un periodo molto molto sanguinolento E il bello, oltre a questa cosa che comunque è già stata battuta in diversi manga Ma è sempre affascinante da vedere, ovvero quello che può provare un samurai di fronte a questo È vederlo fare in una terra come l'Hokkaido Che all'epoca era praticamente un pezzo di Giappone, sì, ma praticamente staccato dal mondo, dal resto dell'universo Dove non si sapeva quello che succedeva nel resto del mondo Dove c'erano appunto gli Ainu ancora che la facevano da padrone E quindi è davvero super super interessante vedere tutte queste particolari dinamiche che si intrecciano tra di loro Soprattutto poi a mio modo di vedere è interessante vedere anche questa dicotomia Che ci sarà tra il volere assolutamente la pace Che è sempre stato insito un pochino negli Ainu, nonostante comunque siano anche un popolo di cacciatori E questo spirito combattivo quasi per forza che si trova all'interno di quest'uomo Che comunque da ex samurai non può fare a meno diciamo di avere uno spirito appunto combattivo E comunque molto 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 stoico, molto virile anche se così vogliamo Poi abbiamo uno shonen, ovvero Dororo, composto da quattro volumi nella versione originale In Italia pubblicato anche in versione omnibus in volume unico Questa è un'opera che in Giappone sarà scritta dal 67 al 68 E nonostante in Italia soprattutto si parli spesso di altre opere del maestro Tezuka Come quelle della sua massima rappresentanza C'è da dire che in Giappone soprattutto Dororo è stata molto 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 apprezzata Basti pensare che ancora oggi si fanno remake animati C'è tantissimo merchandising legato a questa serie Ed è una di quelle più spesso citate anche da altri mangaka O comunque altri artisti o anche semplici fan del maestro La storia è quella di Yakimaru, un bambino appena nato appunto Che viene sacrificato da suo padre Che è un uomo che non vede altro che la ricchezza, il potere E tutte queste brutte cose che possono portare veramente Il pensiero dell'uomo a prendere strade ultra negative Proprio per questo lui sacrifica a dei demoni il figlio E questo farà sì che il bambino nasca diciamo in modo non propriamente normale Ovvero senza gli arti, senza gli occhi, senza i sensi Cose che dovrà riconquistare piano piano proprio combattendo contro altrettanti demoni Come quelli a cui è stato sacrificato È proprio una storia bella perché appunto c'è questa sorta di crescita vera e propria Nel senso che è una crescita perché comunque il protagonista cresce anagraficamente con l'età Ma cresce anche nel corpo perché acquisisce piano piano i sensi E questo ci fa capire l'importanza dei sensi, degli arti Di tutto quello che ci troviamo ad avere per diritto di nascita diciamo così Ma a cui magari non facciamo troppa attenzione, non diamo troppo peso Quando invece dovremmo esserne grati E anche l'amicizia perché appunto conoscerà il piccolo Dororo a un certo punto Che diventerà quasi un fratello per lui Questo ci fa capire anche che nonostante purtroppo la famiglia d'origine di Yakimaru Non fosse proprio questo granché Anzi si può sempre trovare qualcosa che in qualche modo la sostituisca Quindi tante tematiche davvero interessanti in questi quattro volumi Che comunque poi scorrono molto molto bene anche a livello di intrattenimento puro Perché pieni di combattimenti con questi demoni, perché pieni di azione, di avventura Dato che Dororo e Yakimaru appunto viaggeranno alla ricerca di questi demoni da sconfiggere Quindi davvero un'opera super super interessante E soprattutto una di quelle che possono essere lette dai più grandi e dai più piccini Poi abbiamo una delle opere più conosciute in assoluto nel maestro Tezuka Ovvero Black Jack, pubblicata in Giappone dal 1973 Questa è assolutamente una delle opere più iconiche del maestro Tezuka Anche perché parla di un medico, un medico senza licenza in questo caso Mentre il maestro Tezuka era un medico con licenza anche se non operava Perché dopo aver conseguito la laurea in medicina Ha preferito dedicarsi a quello che era il mondo dei manga da lui tanto amato E di questo lo ringraziamo sempre Black Jack è appunto la storia di un medico senza licenza chiamato Kuro Azama Che da molto molto piccolo subisce un incidente insieme a sua madre E a causa di questo incidente decide di diventare un medico Che possa diciamo salvare le persone in casi del genere Ma soprattutto la sua motivazione principale Almeno quella che sembra all'inizio È mettere da parte i soldi in modo che possa diciamo salvare sua madre Dalle tremende conseguenze di questo incidente Nonostante sia una serie fortemente episodica Che quindi appunto affronta diciamo temi diversi in ogni capitolo O comunque in ogni serie di capitoli Abbastanza slegati tra di loro Se non fosse per questa sottile trama orizzontale Il bello è che comunque ogni capitolo Ogni storia ha degli insegnamenti molto molto forti Che ci vengono quando da Black Jack stesso Quando dai pazienti Quando dalla piccola Pinoco Una ragazzina nata in un modo assurdo Che non vi voglio spoilerare Ma che scoprirete leggendo l'opera E ogni volta davvero noi potremmo trarre Dei singoli insegnamenti da ognuna di queste storie Il più importante sicuramente è che Tutti i soldi del mondo Non possono comunque competere Con quella che è la salute La cosa più importante probabilmente Che ci troviamo ad avere E a dover in qualche modo difendere Il settimo posto Una delle primissime opere Che ho letto di Osamu Tezuka Diciamo nel primo periodo In cui l'ho conosciuto Tutte le opere più mature Probabilmente anche più mature Di quanto fosse la mia età Le ho lette grazie ad Hazard Che le ha pubblicate in Italia E questa è Kiri Ito Un senere pubblicato in Giappone Tra il 70 e il 71 Questa è un'opera che ci parla Anche qui di un ambiente medico Un ambiente dove vediamo appunto Il dottor Kiri Ito Osanai Che è un giovane medico Che si trova alle prese Con una malattia veramente Molto 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 particolare E strana Il maestro Tezuka Era solito inventare Queste malattie Questi disturbi Anche presi magari a volte Da cose più scientificamente provate Ma dato che la sua immaginazione Era talmente fervida Spesso arrivava diciamo Anche a crearli Come in questo caso Dove il maestro Tezuka Si inventa questa malattia Che fa diventare gli uomini Simili a dei canidi Praticamente Quindi simili a dei cani O a dei lupi Questa malattia Nasce principalmente In un villaggio E poi si espande A macchia d'olio E questo medico Verrà appunto Inviato Al posto di altri Come vittima sacrificale Quasi In uno di questi villaggi O non ricordo se Nel villaggio Dove la malattia è nata Per studiarla Solo che naturalmente Anche lui Verrà colpito Da questa malattia E da lì partirà Tutta una serie di Ipotesi Su cosa possa scatenare Questa malattia Di congiure Soprattutto Anche perché Non sarà solamente Un dramma medicale Se così vogliamo Perché ci sarà tutto Un giallo Un misteri Su quello Che è stato Ordito Alle spalle Di questo medico Quindi ancora una volta Il maestro Tezuka Ci metterà Tantissime tematiche All'interno dell'opera Che ci farà Arrivare A capire tante cose Su tematiche importanti Come il razzismo Come il pugnalarsi Alle spalle Anche in questi ambienti E magari qui C'è stato proprio Un voler Dire qualcosa Nel maestro Tezuka Tra i denti Anche riguardo a cose Che conosceva bene Quindi gli ambienti Degli ospedali Gli ambienti medici Tutte cose che Teoricamente Dovrebbero essere perfette Funzionare In modo del tutto Liscio Ma che spesso Invece Non funzionano così E un'altra opera Che ci parla Tra molte virgolette Dell'ambiente medico È il bisturi E la spada Una delle più grandi Sorprese Del maestro Tezuka Lette Tra virgolette Di recente Nonostante in Giappone Fosse del 1981 In Italia infatti È arrivata solo Negli ultimi anni Questa bellissima opera Che ci racconta Un po' Del passato Della famiglia Tezuka Dato che comunque È anche biografica In qualche modo Dato che racconta Le gesta Di un antenato Del maestro Tezuka Stesso E di un samurai Che a lui Si contrapponeva Un pochino Nonostante poi I due spesso Risultino più amici Che nemici Anche forse Le due cose Erano abbastanza Intercambiabili In realtà La cosa bella La cosa interessante È che questa opera È ambientata In un periodo Il periodo Del Bakumatsu Che è stato Molto molto importante Perché segnava La fine Dell'isolazionismo Del Giappone Quindi finalmente Il Giappone Si apriva Diciamo All'esterno E all'estero Anche E questo portava Due correnti Di pensiero La prima Di quelli Che naturalmente Erano contenti Di aprirsi All'estero Perché questo Portava Tantissimi Vantaggi Vantaggi Che potevano essere Culinari Banalmente Con delle nuove Ricette Ma anche Soprattutto Appunto Medici Con tante cose Che potevano Aiutare la salute Anche delle persone Che ben o male Comunque in Giappone Non era messa Così bene A livello Di progresso Scientifico Altri Purtroppo Erano convinti Che questi Barbari Occidentali Non avrebbero Portato nulla Di buono Ma anzi Avrebbero fatto Solamente del male E proprio fra queste Due correnti Di pensiero Viene giocato Questo fumetto Che parla Effettivamente Di chi era D'accordo E di chi Non era D'accordo Con questa Apertura All'Occidente Davvero Meraviglioso Una fotografia Incredibile Su quel periodo Che ci può portare Davvero indietro Con gli anni E farci sentire Come se fossimo Stati davvero lì Scritta in maniera magistrale Ovviamente dal maestro Tezuka Cosa che lo ha portato Anche a vincere Lo Shogakamanga Award Nel 1984 Poi abbiamo Una delle opere Che sento Meno nominata Dal maestro Tezuka Ma che in realtà Secondo me Dovrebbe esserlo Molto di più Perché è davvero bellissima Ed è la canzone Di Apollo Anche questa Scritta negli anni 70 Precisamente nel 1970 Il decennio Più prolifico Secondo me Del maestro Tezuka Che in questa serie Fa veramente Un trattato Psicologico Sociologico E quant'altro Vogliamo dirgli Perché veramente È un viaggio Incredibile Nella mente Del protagonista Un protagonista Che inizialmente Ci viene presentato Come quello che è Quindi un individuo Altamente disturbato Che si attacca Alla madre In maniera Diciamo Molto molto particolare Che se la prende Con degli animali Innocenti Senza nessun motivo Che quindi ha Questi disturbi Diciamo Di violenza Di una personalità Sicuramente Poco idonea Alla civiltà Questo inevitabilmente Lo porta A dover essere curato Rinchiuso In un ospedale Psichiatrico Ed è proprio qui Che inizierà Il viaggio Che ci metterà Di fronte A delle scene Che non capiremo Quasi mai All'inizio Se sono sogno Realtà Scene oniriche Che si mischiano A quella Che è la realtà Appunto Drammatica Vissuta Dal protagonista E in tutti Questi sogni Però noi Vivremo delle esperienze Che ci porteranno Anche a pensare A riflettere Quelli che sono Argomenti importantissimi Quindi appunto L'attaccamento Ai nostri genitori L'uso che facciamo Della violenza Soprattutto Verso Esseri Innocenti E esseri Molto più deboli Di noi Il nostro modo Di amare Il nostro modo Di essere amati Quindi Tutto quello Che concerne La sfera sentimentale Più pura Rifletteremo davvero Tanto Su quelle che sono state Le azioni della nostra vita Grazie Alle azioni Del protagonista Nonostante Le sue Siano molto più Esasperate Ma appunto Questo servirà Per farci anche Entrare più Nel vivo Nel fondo Di questa vicenda Davvero Un'opera Molto molto bella E tra le più sottovalutate Probabilmente Di Maestro Tezuka Che dovrebbero Secondo me Ricevere Una seconda Giovinezza Ecco Qui inizia davvero La difficoltà Per me Perché ci sono tutte opere Che ho amato tantissimo Nonostante anche quelle Che ho detto Fino ad ora Lo siano E al quarto posto Troviamo MW Opera scritta Tra il 76 E il 78 Qui veramente C'è poco da dire Perché ve ne ho già Parlato tantissime volte Ma mi piace Ripetere Che questa È un'opera davvero stupenda Che ha anticipato Tantissime tematiche Che poi avremo visto Anche più spesso Affrontate Diciamo In futuro Nel mondo dei manga Come i rapporti Omosessuali Qui c'è una Storia davvero Travagliata Problematica Ma non in quanto Ma non in quanto Omosessuale Nonostante in quegli anni Potesse essere Anche così Cioè Sarebbe stato Plausibilissimo Che la storia fosse Difficile Anche solo per quel motivo Lì No Quello Passa in secondo piano Diciamo Nella dinamica Generale Di quest'opera Che comunque Ci presenta Due personalità Molto 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 Particolari Una in particolare Che viene segnata Ancora di più Rispetto all'altra Da un incidente Che avviene Proprio all'inizio Del manga Quando Queste due persone Si trovano Su un'isola Un'isola Che viene presa Diciamo Come sede Per fare un esperimento Un esperimento Chimico Con un gas Che viene rilasciato E che praticamente Stermina Quasi tutte Le persone Che sono su quell'isola Quasi tutte Perché loro due Fortuitamente Si trovavano In un posto Non raggiungibile Da questo gas Ma che comunque Subiranno Lo stesso In qualche modo Le conseguenze Non voglio dirvi di più Perché è appunto Un'opera che Si basa molto Su quelle che sono Le conseguenze Di cui vi sto parlando Quindi lo scoprirete Leggendola Ma è davvero Meraviglioso Vedere come già All'epoca Il maestro Tezuka Fosse così Avanti Da scrivere Una storia Che potrebbe risultare Attualissima Anche oggi Nel 2023 Facendoci riflettere Su tantissime tematiche Come quella Del perdono Di quanto sia giusto O meno giusto Anche accettare Le conseguenze Delle proprie azioni Il fatto Che comunque Qualcuno Possa Diciamo Agire in un modo Di essere perdonato Perché magari Agisce in quel modo A causa di Alcune sollecitazioni Che ha avuto prima E comunque Quanto sia giusto O meno il perdono Anche in generale Sulle azioni degli uomini Davvero ecco Un'opera incredibile Che spero Possiate recuperare Così come è incredibile Anche l'opera Al terzo posto Ovvero Ayako Scritta nel 1972 Qui vediamo Ecco la fotografia Di un Giappone Che fortunatamente Non esiste più Un Giappone Molto crudo Un Giappone Duro Soprattutto con le donne Magari questo esiste ancora Ma un pochino meno Fortunatamente Almeno spero E la protagonista Appunto È Ayako Quella del titolo Una ragazzina Che si trova Suo malgrado Al centro Di alcune azioni Che non avrebbe mai voluto vivere Come non avrebbe mai voluto vivere Nessuno Questo perché A causa di alcune vicende Si troverà A essere praticamente Chiusa Sotto chiave In uno scantinato E a vivere Tra virgolette Come se fosse morta Come se non esistesse più Perché è appunto Figlia di un rapporto Illegittimo Ma questa non è l'unica cosa Che vedremo in Ayako Perché Il contorno È fatto Dai esidui Di quella che è La seconda guerra mondiale Quindi persone tornate Con mille problemi Dalla seconda guerra mondiale Che cercano Di farsi vedere forti Di farsi vedere indistruttibili Ma che hanno Ormai la psiche Completamente a pezzi E anche le persone più forti Come quelle che Cercano di sovrastare Ayako Con la loro imposizione Fisica In qualche modo Si dimostrano poi più deboli Di quanto potrebbe essere La ragazzina Che da essere Super fragile Quale ci viene presentato Si dimostra in realtà Psicologicamente La più forte di tutti Al secondo posto Abbiamo invece Una delle opere Che molti di voi Apprezzano maggiormente Che è anche più conosciuta In Italia Del maestro Tezuka Ovvero I tre Adolf Che è anche Una delle primissime opere Forse la primissima opera Matura Che ho letto Del maestro Tezuka Quando avevo 15-16 anni Dopo aver letto Alcune storie brevi Pubblicate su K Magazine Alcune cose Di Black Jack E di Astro Boy Che venivano pubblicate In modo un pochino Discontinuo Da alcune case editrici All'epoca Tre Adolf Come fa intuire il titolo È ambientato Durante la seconda guerra mondiale Uno dei periodi Della storia umana Più affascinanti In assoluto Per quanto mi riguarda E ci parla Di queste tre persone Chiamate Adolf Una è Hitler Ovviamente Una è un ragazzo ebreo Una è un ragazzo tedesco E il loro destino Verrà inesorabilmente Intrecciato A causa del primo Quindi a causa ovviamente Di Adolf Hitler O meglio I due ragazzi Si conoscono Perché sono amici Però La piega Che prenderà Il loro destino Ve lo dico così Senza fare spoiler ulteriori Verrà appunto Decisa Dalle imbarazzanti E disastrose Politiche Di Adolf Hitler Una storia che parte Come base Da un realismo assoluto Riferito alla seconda guerra mondiale Tanto che Alla fine dei vari capitoli C'è anche una cronologia Di quello che è successo Nel mondo Durante quegli anni Ma che poi appunto Prende questa realtà Per distorcerla Grazie a una Di quelle leggende Metropolitane Che erano tra le più Gettonate Qualche anno fa Ovvero che Adolf Hitler Potesse avere Delle origini ebree Cosa che era sicuramente Disturbante Da un certo punto Ma anche molto Molto affascinante Perché Apriva a tantissimi Scenari Tantissimi scenari Che appunto Sono stati sviluppati La maestro Tezuka In quest'opera Davvero incredibile E al primo posto Come tutti avrete immaginato Come tutti Praticamente saprete C'è lei La Fenice Kino Tori Il manga più bello Di sempre Anche se È probabilmente Rimasto in qualche modo Incompiuto A causa della Prematura morte Del maestro Tezuka Che forse Avrebbe portato Diciamo avanti A vita Questa serie L'opera iniziata L'opera iniziata nel 1967 In Giappone È un qualcosa Di incredibile Un qualcosa Che ci pone Di fronte A noi stessi Al nostro rapporto Con la natura Al nostro rapporto Con la scienza Con la tecnologia Con gli altri esseri Umani Con gli animali Un'opera che È riuscita a parlare Di qualsiasi cosa In questi libri Perché È composta appunto Da dei libri Che ci parlano Del futuro Del presente Del passato Andando a scavare Nel Giappone Contemporaneo Nel Giappone Di tantissimi anni fa E in quello Che il maestro Tezuka Immaginava Potesse essere Il Giappone Di un futuro Per lui Lontanissimo Un manga Che rappresenta tutto Un fumetto Davvero eccezionale L'opera per me Migliore di sempre Che ci scava dentro Come mai Un'altra opera Abbia fatto E di questa Davvero non voglio Accennarvi neanche La trama Perché non c'è Una vera e propria trama Dato che sarà Semplicemente Il viaggio Di questa fenice Dall'inizio alla fine Che ci porterà Attraverso i secoli Attraverso le epoche Attraverso Noi stessi Fondamentalmente Quindi questa Dovete solo Leggerla Bene Fatemi sapere Qui sotto Con un commento Qual è la vostra top Dei manga Del maestro Tezuka E comunque Lasciate un commento Che mi fa sempre piacere E poi rispondo a tutti Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Attivando le notifiche Condividetelo E guardate qui sotto In descrizione Ci sono tutte le info utili Su come fare i vostri acquisti Su Pampling Con il codice Kirio Su come venire in Giappone Con me Mi raccomando Anami 2024 Ci divertiremo E su come acquistare Scontato Su Manga.io E HelloFresh Noi ci vediamo Alla prossima E ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima